Fratelli del Sole e del Bianconeri sono Superseba, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto sono felice per la vittoria, comunque i tre punti ci stanno, sono fondamentali, e adesso siamo a terzi, stiamo ristraendo la classifica, tutto quanto, bla bla bla, e per ora voglio parlare di questo. Però, contento della vittoria, ma però che sofferenza! Cioè, abbiamo giocato contro una squadra che sta ultima in classifica, insieme con la Cremonese e la Sampdoria che sta andando letteralmente peggio. Giocando contro la ultima in classifica, il Verona ha la peggior difesa del campionato. Ha la peggior difesa del campionato, ragazzi, ma vogliamo metterci in testa? Lo so che siamo contenti della vittoria, ce la siamo meritati, però grazie a Moise e Ken, il guerriero, ha finalmente trovato il gol. Prendiamoci questi tre punti che sono fondamentali, e comunque, testa a domenica, appunto, per sera, contro la Lazio, che anche quello sarà un big match importantissimo, quello di rimanere tra le candidate alla vittoria del campionato. Anzi, rimanendo tra le candidate alla vittoria del campionato. Però, quest'anno so che in Napoli sta andando forte, però, appunto, il Milan ha pareggiato 0-0 con la Cremonese. Hanno 30 punti e loro sono a meno 8 da Napoli che è ancora primo. Allora, adesso parliamo del primo della partita, ragazzi. L'ho già, comunque, parlato altrove. Ok, primo tempo, diciamo che è stato veramente bloccato. Abbiamo provato qualche occasione da gol e poi il Verona, che ancora una volta ci continuava a manettarci. Ci stavano ancora una volta a manettarci, però abbiamo fatto fatica nel primo tempo a trovare qualche occasione da gol. Poi, nel secondo, addirittura, abbiamo finalmente trovato sto benedetto gol per portarci avanti. E infatti, senza Moise Kenna, quest'ora il gol non lo facevamo. Però, grazie al cielo, grazie al cielo che il VAR ha letteralmente visto che non era calcio di rigore, ma era fallo in attacco e punizione per la Juve. E questo, appunto, dovevo fare questo accenno del regolamento del VAR. Lo so che il VAR a volte sbaglia, ma non ripensiamo a quello scanno di Juve-Sanera-Nitana quando ci avevano annullato il gol a Milik che addirittura non era in fuori gioco. Alcuni tre punti li abbiamo recuperati, nonostante quel pareggio lì, alcune sconfitte, tutto qua. Però adesso stiamo comunque risalendo. Stiamo risalendo la classifica e quindi, al momento, prendiamoci questi tre punti a casa, pensiamo per domenica sera contro la Lazio, che è importantissima. Quindi, contro questi, veramente, ragazzi, erano due... Allora, è certo che la Juve, che è vero che non vinceva al 20 godi da due anni, dopo un pareggio, quando c'era Pirlo in panchina. E l'anno scorso avevamo perso in trasferta per 2-1 con Simeone che ci aveva purgati e poi ci ha segnato il gol da bandiera a McKennie. Però, contro questi, veramente, abbiamo fatto fatica. Avevamo fatto addirittura fatica, ragazzi, però, ragazzi, però... Non si marca la gente così. Non ci si marca la gente così, però... Farlo, però, appunto, per i difensori. Cari difensori centrale della Juve, Bonucci, Bremer, quelli che hanno giocato fino al novantesimo, e anche fino al novantacinquesimo, però, contro questi ci stavano continuando a manettare, tipo come un martello preumatico. Nel punto di Verona, mentre ci stava attaccando, avevano il martello preumatico. Ci volevano trapanare per farci fare il pareggio. Però, Bonu, Bremer, so che siete stati bravissimi in questa partita, avete lottato e non abbiamo nemmeno preso gol. Però, non ci si manca la gente così. Tipo come i vecchietti, quelli che guardano i cantieri. Però, non ci si marca così, da punti in difesa. Però, ci siamo quasi fatti saltare da Henry, che addirittura, mamma mia, Henry, quello che giocava l'anno scorso nel Venezia, quando il Venezia era in Serie A, addirittura ci stava, ci stava, ci stava per fare l'1-1. Io veramente, non ce la facevo più, mentre ero di là, vedemmi la partita. Io, non riuscivo a stare tranquillo, perché stiamo addirittura, ansiosi, però è stata una sofferenza. Io comunque, su questo discorso, l'ho appena detto. Tra l'altro, comunque, un'altra, un'altra azione che ho appena visto, cioè, è la punizione al limite di, di Verdi, che ha giocato, addirittura, nel Bologna, e nel Torino, addirittura, vedi che ci provavo a tutti i costi, a segnarci contro, ma poi alla fine, ero lì che pregavo, ero lì che pregavo, per dire, se segni anche Verdi, se segni anche Verdi, io, io mi incazzavo. comunque, adesso, meno male che, quella punizione calciata da Verdi, l'ha tirata fuori, alta, sopra la porta di Perin. Comunque, adesso, ho detto quello che, quello che, abbiamo appena visto tutti, nella partita. Adesso portiamoci a casa i tre punti, e quindi, meritiamoci sta vittoria, e l'importante è di essere riusciti, a vincere stavolta, contro una squadra, che sono ultimi in classifica, come il Verona, che hanno la peggior difesa del campionato. Però, non ci si manca così, tipo come i vecchietti, che guardano i cantieri, così non ci si manca, perché stavolta qua, ci fanno saltare, tipo, le ali, e gli attaccanti del Verona, se no, ci siamo fatti rischiare, da saltare da loro, tipo così. Hop! Hop! Questi ci siamo fatti rischiare. Però, questa cosa, non deve succedere, facci saltare così, hop! Hop! Così. Questo dobbiamo comunque evitare. Testa domenica sera, perché adesso c'è la prossima, contro la Lazio, prima della sosta dei mondiali, in Qatar 2022. E comunque, tra poco, nel tempo che carico, il post partita, tra poco, ci sarà il ventesimo episodio, dell'accadiratore con l'Akragas, qua, su FIFA 23, che adesso, eh, carico il video, accendo tutto quanto, e così, tra poco, sono in live. Ok ragazzi, se il video è piaciuto, lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, quello spesso è per tutto, e noi ci vediamo, al prossimo video. Ciao, al prossimo, come sempre, fino alla fine, forza Juve! Ciao,